Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Gigi Fortrat Oggi ragazzi siamo qui per fare la parodia su Mademoiselle di Spera e Basta Allora ragazzi, per questo video arriviamo a 5 like, condividete e iscrivetevi al canale per essere salutati a un nuovo video e partecipare al contest di Fortnite Detto questo ragazzi, iniziamo E iniziamo Grazie Non di tutto quello che gli manca, non ci penso e faccio Oh oh, qualsiasi cosa Qualsiasi cosa dico, sarà usata contro di me L'intervista non rispondo Se è un'intervista e non rispondi Ehi Quanto ci scommetti che vincerò, questa è un'intervista, oppure come ti chiami? Andiamo Come al cellulare se mi chiama la mia ex Logico Aspetta Tu chiama la polizia o lei chiama la polizia? Non ho capito tanto bene Quindi Ehi Dicono che è colpa mia Vabbè, se non è fatto niente Ma nelle tasche non ho nulla Non vado io nulla Mia nonna ha detto che non si deve mai giurare Quindi Non si giura Sfera Quello che mi serve Qua tutti puntano il dito Mad Mosè Perché fumo, perché bevo, perché spendo sto cash E anche chi ti sorrideva adesso non è tuo fran Perché vuole ciò che hai, tenerlo tutto per sé Non ci penso e faccio Oh oh, qualsiasi cosa Mamma non ti preoccupare della censura Se t'hanno censurato Preoccupati mamma Preoccupati Allora se non arriva l'uva Non è che Nel modo Lui mette una scala E ci arriva Quindi Non fa lo scemo Qui non mi ha in copertina Un esorcista ha detto Che gli faccio paura Ma qui è la Stessa storia da anni E mi fai quasi pensare Io fumo e tu ti sballi E no, non voglio dire nulla di sbagliato Ma anche se non dici nulla qua Comunque ti sbaglio E chiamano la polizia Sì, sì, sì Ehi, dicono che è colpa mia Sì, pronto polizia Sì, sfer e basta Sì, sì, sfer e basta Sì, sì, sì Ok, ciao Ehi, ma nelle tasche Non ho nulla Giuro tenente Nulla tenente Adesso Tutto quello che mi serve Qua tutti puntano il dito Ma Ma Perché fumo Perché bevo Perché spendo sto cash E anche chi ti sorrideva Adesso non è tuo friend Perché vuole ciò che hai E tenerlo tutto per sé Non ci penso e faccio Oh, 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 oh Era bello quella Non ci penso e faccio Nemmeno io ci penso Se tu non ci pensi No? Va bene Non ci penso nemmeno io Oh, 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 oh Io non ci penso e faccio Oh, 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 oh Allora Se tu non ci pensi E fai Oh, 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 oh Allora Io invece ci penso E faccio Ah, 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 ah Oh, 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 oh Ok ragazzi Questo video è finito O come lo volete chiamare Parodia Vi ricordo di lasciare 5 bei like Condividete Iscrivetevi al canale Per partecipare al Context Di Fortnite E potete giocare con me Ciao ragazzi Ciao Partecipate al Context Iscrivetevi E Condividete Lasciate like Ciao